L'onorevole Giuseppe Castiglione, deputato del nuovo centrodestra. Pronto? Pronto, buonasera. Ecco, onorevole Castiglione, abbiamo detto giusto, lei oggi si trova nell'area che fa riferimento ad Angelino Alfano. Assolutamente sì, con Angelino Alfano c'è un rapporto di lunga amicizia, di grande affetto, ma soprattutto in questi mesi abbiamo lavorato a costruire questa posizione politica che abbiamo affermato in questi giorni, che abbiamo concretizzato l'altro ieri, ma che ci ha visto lungo il percorso prima in Forza Italia e poi nel PDL e soprattutto abbiamo vissuto con grande apprezzione, ma soprattutto con grande determinazione queste ultime fasi. Abbiamo provato a ricucire, a ricercare l'unità, abbiamo posto delle questioni che ormai sono note al Paese, sono note a tutti, sono note ai giornali, l'abbiamo espressa in tutte le maniere. Abbiamo provato a dire che il governo deve avere vita autonoma, il governo deve continuare in questa iniziativa e deve seguire quel voto del 2 ottobre. Il 2 ottobre noi abbiamo detto sì al governo Letta, abbiamo detto che non si può aprire una crisi al buio, non ci può essere un partito che insegue una crisi al buio, soprattutto con questa legge elettorale. Senta onorevole, però queste chiaramente sono le motivazioni che vi hanno portato a sostenere il governo e a staccarvi nei giorni scorsi appunto da Forza Italia. I giornali però oggi appunto evidenziano come questa spaccatura, come detto anche da noi poco fa, in realtà ha fatto bene al centro-destra, intendendolo come coalizione, perché l'unione di Forza Italia con il nuovo centro-destra e gli altri partiti minori appunto supera nei sondaggi, in termini di consenso, il centro-sinistra. C'è già chi parla di una nuova alleanza in vista delle europee, ma anche di possibili future politiche che potrebbero quindi non tardare a venire. Ma guardi, noi intanto il dato più significativo e importante, ad appena 24 ore dalla conferenza stampa, perché è stato testato domenica il consenso sul nuovo centro-destra, mi pare che sia un risultato molto significativo, importante, senza un logo, senza una campagna. Quindi questo è un partito che ha una bella prospettiva, una prospettiva per il Paese, quindi una formazione che certamente non deluderà, c'è un leader anche giovane. Io ritengo che il rapporto, così come ha detto Alfano, resta il rapporto con tutta la coalizione di centro-destra, con le formazioni che stanno nel centro-destra, con Forza Italia e con Berlusconi. Però noi alle elezioni europee, siccome nei prossimi giorni chiederemo l'adesione al Partito Popolare Europeo, alle prossime elezioni europee presenteremo la lista, presenteremo la lista competitiva. Non ci sarà certamente un'alleanza con altre liste, quindi in quell'occasione ribadiremo il nostro forte ancoraggio ai valori del popolarismo europeo, al Partito Popolare Europeo. Chissà, cominciamo a costruire le premesse perché nel futuro il PSE sia rappresentato in Italia, le due grandi famiglie europee in Italia possono essere rappresentate da due giovani. Probabilmente il PSE sarà rappresentato da Renzi e il PPS sarà rappresentato da Alfano. Forse da Alfano. Senta, si parla, poi forse ce lo confermerà lei, per il nuovo centro-destra di una prima convention il 30 di novembre, quindi veramente fra poco, a breve, fra poco più di dieci giorni. E c'è chi dice che alla convention potrebbe venire proprio lo stesso Silvio Berlusconi, ma in questo modo non si rischia un po' di annacquare il significato di questa separazione? Ma io penso che il 30 sarà il lancio di questo nuovo progetto politico. Ci sarà Berlusconi? Sarà il giorno di Alfano, presumo che il presidente Berlusconi, non so se vorrà partecipare all'assemblea, però sarà il manifesto politico di Alfano e di coloro che hanno scelto un nuovo percorso, un nuovo partito, una nuova guardare al futuro, quindi non mi pongo il problema. Non sarà facile venire a Bada Berlusconi se vorrà venire. Sarà la grande occasione per dire al Paese di riconoscersi in un leader che è Alfano, ma soprattutto di riconoscersi. Ognuno dovrà rivedersi in un partito che dovrà essere non solo radicato sul territorio, ma parlare il linguaggio della gente e soprattutto esprimere quella voglia. Anche Forza Italia dice che loro sono il partito non degli estremisti, ma della gente che ha cuore e il partito di chi ha contatto davvero con la gente. Questo lo dice Forza Italia. Ma guardi, già il fatto stesso che loro si pongano il problema di chi mandare in televisione o mandare negli appuntamenti all'esterno, vuol dire che si sono già resi conto che il tono che hanno assunto in questi ultimi mesi a fronte delle nostre richieste di unità, di trovare, di ragionare, provare a migliorare la legge di stabilità, di provare a governare questo Paese piuttosto che portare il Paese al voto, mi pare il fatto stesso che loro già si pongono il problema e vuol dire che ha vinto, ha prevalso in quel partito, ha prevalso la linea degli estremismi, ha prevalso la linea... Quindi si cerca di porre rimedio a questa deriva. C'è un problema però concreto, onorevole Castiglione, che è quello dei consensi. E molti osservano che fino ad oggi li ha avuti tutti i berlusconi e quindi che la nuova centrodestra, al di là dei sondaggi che poi appunto sono stati diffusi nelle primissime ore dopo la separazione e che possono anche essere in qualche modo, tra virgolette, viziati dall'effetto novità, si osserva. Al di là di questi primi dati, sarà non semplice riuscire a strappare consensi a Silvio Berlusconi? Beh, io penso che Berlusconi ha avuto un ruolo fondamentale, importante. nessuno vuole sottacere del ruolo determinante la grande capacità che ha avuto in termini di comunicazione in tutte le campagne elettorali. Però se riportarsi alla mia esperienza personale, io sono stato eletto col sistema proporzionale, sono stato eletto con l'uninominale con l'80%, quando non c'era Berlusconi. Ognuno di noi ha una storia nel proprio territorio. Io penso che Alfano, il messaggio politico, la speranza di avere un governo, la possibilità soprattutto di cambiare passo, di far ripartire il Paese, c'è questa ansia, questa speranza che noi vogliamo interpretare. Quindi il partito sarà quello strumento che non solo permetterà alla gente di partecipare a questo grande progetto politico, utilizzando anche per carità gli strumenti che oggi le nuove tecnologie ci permettono. Quindi da questo punto di vista dovrà essere anche un partito moderno. Senta, non avete paura di fare la fine di fini? Ma no, mi pare che dall'entusiasmo che cogliamo in giro sarà un grande successo. Mi sembra molto riduttivo quel dato, che pur già è un dato importante. Noi stiamo costruendo un grande progetto politico. Le assicuro che sarà, dalla risposta che abbiamo avuto sul territorio in questi giorni, dalle telefonate, dalle mail, dal calore che sentiamo attorno. Diciamo anche che a questa nuova formazione politica, anche tantissimi che in questi giorni io non votavo più, mi ero disaffezionato, voglio tornare, voglio impegnarmi, voglio mettermi a disposizione del progetto politico. C'è non più gente che per stare in questo partito cosa c'è in questo partito. Invece c'è gente che ti dice io voglio mettermi a servizio del Paese, voglio mettermi a servizio di questa nuova iniziativa politica. Questo è molto bello, non succedeva da tempo. E quindi ritengo che questo entusiasmo non possa essere vanificato. Insomma avrà un seguito in qualche modo, secondo lei. Senta, Alfano ha detto che in realtà la vera conta si farà dopo la decadenza, quindi dopo il 27 di novembre. Significa che qualcuno degli attuali falchi potrebbe decidere di passare dalla vostra parte. Lei sarebbe favorevole ad un'ipotesi del genere? Ma guardi, noi non abbiamo messo preclusione a nessuno. Le adesioni che ci sono state sono state tutte adesioni molto spontanee, libere, quindi le adesioni sono aperte a tutti. Noi però abbiamo il nostro progetto che guarda più ai cittadini, più che agli eletti guarda ai cittadini. Quindi lavoreremo perché ci sia il consenso della gente, non della classe dirigente o di coloro che già stanno nei ruoli istituzionali e nel Parlamento. Quindi nel Parlamento è chiaro che è un segnale molto forte quello che è arrivato. Portare quando nessuno credeva ai 23 parlamentari, oggi siamo già 30, quindi mi pare che sia già un grande risultato quello che abbiamo ottenuto. Questo rafforza anche il governo, rafforza anche l'azione di governo e soprattutto la serenità di poter lavorare in questo governo. Certo. Senta, questa mattina Verderami, che è storica firma anche tra le più prestigiose del Corriere della Sera, è intervenuto proprio da noi a Radio Yes e ha detto che in realtà è possibile un'alleanza fra il nuovo centrodestra e i popolari di scelta civica, che proprio nel giorno in cui il nuovo centrodestra nasceva lasciavano la loro assemblea di partito. Quindi qualcuno ha notato anche una contemporaneità degli eventi non forse non casuali. Lei ha detto alle elezioni europee e alle future politiche che noi non ci alleeremo, non stiamo pensando ad alleanze, però in realtà anche facendo semplicemente un ragionamento numerico avete bisogno anche di sostegno. Quindi questa prospettiva di un'alleanza con i popolari di scelta civica è lontana o è praticabile? Guardi, il nostro è un progetto ambizioso, lo dicevo, quindi vogliamo alle elezioni europee e certamente ci presenteremo da soli. Nel futuro non possiamo non pensare che il rapporto con uomini come Mario Mauro, io sono stato in Parlamento europeo, so cosa significa la sfida tra il PSE e il PPE nel prossimo Parlamento europeo, quindi dobbiamo portare una rappresentanza la più vasta, la più nutrita, la più qualificata, la più autorevole e quindi tutti i contributi che verranno da coloro che si presenteranno nelle elezioni europee, dove è chiaro c'è un vincolo del 4%, io spero che assieme ad un grande nuovo centrodestra, ad una grande affermazione del nostro partito ci sia anche l'affermazione di altre formazioni che si riferiscono al Partito Europeo. In Europa la leadership si conquista sul campo, quindi la primazia tra il PSE e il PPE sarà misurata dal voto, dal consenso che in Europa ci sarà. Allora penso che siamo sulla strada giusta, anche in Europa oggi la leadership di Alfano è riconosciuta e quindi dobbiamo tutti lavorare per rafforzare il Partito Popolare europeo e quindi avere anche un gruppo parlamentare che sia veramente all'altezza delle grandi sfide e non solo di quel momento importante che per noi è il semestre di presidenza europeo dove porremo alcune grandi questioni, ha detto Alfano prima fra tutti il tema dell'immigrazione. Certo, certo. Senta, onorevole Castiglione, un altro elemento che riguarda invece proprio strettamente il nostro Paese, il giornale, edito chiaramente dalla famiglia Berlusconi, parla di incontri per preparare la scissione del PDL con il Vaticano, cioè un legame tra gli alfaniani, quindi voi del nuovo centrodestra e Vaticano, come se in qualche modo a dare il là a questa separazione, a questa scissione, un contributo importante sia venuto proprio dagli ambienti cattolici del Vaticano. Si riferisce di incontri con il Cardinale Ruini, incontri regolari a cui hanno preso parte il Ministro Lupi, l'onorevole Quagliariello, anche il Ministro Mauro. Ecco, lei che ci dice al riguardo? Ma io penso che ci sia stata una... che il Vaticano abbia potuto esercitare pressione per far nascere un partito, lo escludo assolutamente, che oggi c'è una grande area politica che voglia affermare alcuni principi, alcuni valori a cui profondamente crediamo, e quindi ai valori cattolici, e quindi soprattutto seguire anche per molti versi le orme di questo papato straordinario che è quello di Papa Francesco, mi pare che non ci sia nulla di scandaloso. La figura di Berlusconi in questa prospettiva è un po' scomoda oggi? O potrebbe trovare spazio ancora? Beh, io penso che Berlusconi, se si libererà di alcuni falchi, ormai nella accezione del partito di questi che l'hanno circondato, il partito dello sfascio, il partito del non governo, che l'hanno mal consigliato negli ultimi tempi, io penso che sarà ben accetto anche nella famiglia popolare, dove ricordiamo tutti che quel dicembre, quel gennaio del 2000, quando aderì al Partito Polaroopeo, fu da molti di noi considerato un momento molto importante. Senta, ma rispetto a questa consonanza con gli ambienti cattolici, Berlusconi, pensando alla sua figura di per sé, alla sua storia ed anche agli scandali e le inchieste in cui è stato coinvolto recentemente, secondo lei potrebbe essere ancora gradito? Io penso di sì, il Presidente Berlusconi poi alla fine ha sempre espresso delle posizioni politiche che certamente non solo non vanno in contrasto, ma ha difeso su molte battaglie importanti, dei temi della vita, della famiglia, mi pare che ha sempre espresso delle posizioni, nell'attività parlamentare ha sempre espresso, ha sostenuto questa azione, quindi non ci sarebbe nessuna riserva. Anche se la CEI, la Chiesa, ha ribadito in più occasioni anche l'esigenza che i politici cattolici o vicini all'area cattolica, insomma, assumessero anche un atteggiamento sotto il profilo etico anche adatto a quello che è poi la responsabilità che pertiene alle figure che hanno un ruolo importante nel mondo politico. Questo mi pare che la CEI esercita il proprio magistero non può che fare un richiamo all'appello ai valori fondanti, anche e soprattutto per chi vive l'impegno in politica. Senta, passiamo dalle cose etiche alle cose anche più concrete. L'ultima domanda poi dobbiamo salutarla. Dove vanno a finire i soldi del PDL dopo l'ascissione? Ovvero, il nuovo centrodestra come pensa di autofinanziarsi? Ma guarda, fortunatamente siamo con risorse molto scarse però siamo convinti che attorno al progetto il finanziamento è quello che la legge... Anche dopo il passaggio dell'ultima legge, certo. Noi siamo stati coloro che alle ultime elezioni politiche abbiamo detto che avremmo rinunciato al finanziamento pubblico e quindi ci sarà un finanziamento trasparente, certificato, o bilanci certificati. Non abbiamo, certamente, se dovessimo riferire io sono stato coordinatore del PDL in Sicilia se i costi del partito fossero tutti quelli che abbiamo sopportato in questi anni in Sicilia penso che noi avremmo bilanci saremmo veramente con poche... avremmo bisogno proprio di poche risorse quindi non litigheremo sui soldi non ci sono soldi nel PDL non ci sono grandi risorse quindi assolutamente non mi pare che sia questo il problema principale il tema vero è della moralizzazione della vita pubblica quindi di bilanci dei partiti trasparenti di bilanci dei partiti certificate di finanziamenti sempre trasparenti sempre chiari, leggibili quindi anche delle persone che concorrono contribuiscono al sostegno alla vita dei partiti Onorevole Castiglione dobbiamo purtroppo salutarla noi la ringraziamo per questo intervento grazie all'Onorevole Giuseppe Castiglione deputato del nuovo centrodestra buon lavoro grazie arrivederci grazie grazie